Musica 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 Aprite le porte della giustizia e preremo a rendere grazie al Signore E' questa la porta del Signore per essa entriamo per ottenere misericordia e perdono grazie e grazie 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 Agli apostoli gloriosi sei contata nella verità e al sangue dei martiri e dei santi ricevi forza nel cammino E' un libro delle attitudini che Francesco ha appena programato, cantando come sappiamo è la magna carta del cristiano, del discepolo di Gesù è la magna carta della Chiesa E' un testo che mi pare questa sera ci suggerisca due indicazioni in modo particolare, è un testo molto ricco evidentemente molto più che le due indicazioni che desidero sottolineare La prima è questa Al tempo di Gesù le persone che lo ascoltavano credevano, pensavano che la beatitudine della vita cioè una vita bella una vita felice una vita piena una vita vera forse appannaggio riguardasse soltanto le divinità del cielo le divinità a cui le persone, le popolazioni pagane credevano con quella felicità soltanto per gli abitanti divini che stanno in cielo E invece Gesù si rivolge a delle persone persone comuni, semplici come noi e dice beati voi non dice beati chissà chi coloro che stanno in cielo ma beati voi e questa sera il Vangelo Gesù lo ripete beati voi siamo beati dunque una vita piena una vita bella è possibile per tutti noi per ciascuno di noi la seconda sottolineatura è la seguente Gesù rivolge questo insegnamento ai suoi ascoltatori sempre al plurale non dice mai beati tu abbeati voi questo vuol dire che la vita bella del Vangelo la vita piena vera che Gesù ci propone non è mai possibile realizzarla o sperimentarla privatamente ciascuno del conto proprio è sempre una esperienza di chiesa quindi soltanto insieme soltanto se si vive insieme il Vangelo soltanto se si cammina insieme secondo la logica del Vangelo è possibile sperimentare questa magna carta che Gesù consegna alla chiesa che Gesù consegna ai suoi discepoli vorrei concludere dicendo questo ancora le attitudini sono una serie di indicazioni che poi sono state vissute realizzate e testimoniate da Gesù prima di tutto e allora noi possiamo sintetizzare proprio oggi che celebriamo la solennità di Cristo e dell'Eco diverso tutto quello che ci è proposto nelle beatitudini possiamo sintetizzarlo con facendo riferimento a Gesù 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 il re che è un Gesù crucifisso non ce lo scordiamo mai Gesù non è un re potente dominatore che segue il russo che segue i fastidi Gesù non è mai fatto i vuoti d'artificio così risulta dal Vangelo Gesù è un Gesù è un Gesù nudo che sta in croce è un Gesù il cui unico criterio di annuncio di consegna della salvezza è il servizio e il dono della sua vita fino a morire noi l'unico potere che abbiamo come Chiesa e l'unico potere che vogliamo vivere e realizzare è il servizio e il dono della vita ora io auguro a tutti voi come Chiesa comunità parrocchiale di di crescere in questo percorso percorso magari di tanto in tanto fermatevi a fare un po' di verifica nel vostro cammino che state appena cominciando la comunità parrocchiale giovanissima però di tanto in tanto chiedetevi se la nostra comunità la nostra famiglia parrocchiale esomiglia al crocifisso altrimenti no avremmo invocato una via diversa da quella delle beatitudini che abbiamo appena proclamato allora tanti auguri a tutti voi perché anche potendo beneficiare di questo giubileo e di tutti i doni di grazia che un giubileo offre mentre a disposizione dei cuori aperti e disposti possiate crescere secondo quanto Gesù Re un Re crocifisso che si dona fino a morire per gli altri ci insegna e si aspetta da tutti noi allora buon cammino a noi e tanti auguri Grazie carissimi supplichiamo il Signore perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in memoria del nostro quattesimo essa è invocazione di misericordia e salvezza in virtù della risurrezione di Gesù Cristo Dio Onipotente origine e fonte della vita fededici quest'acqua e fa che noi coi fedeli aspersi da questa fonte di purificazione otteniamo il perdono dei nostri peccati la difesa dall'insidio del maligno e il dono della Tua protezione nella Tua misericordia nella Tua misericordia addonaci Signore una sorgente di acqua di amici per la vita eterna perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a Te con cuore puro per Cristo Nostro Signore Amén passare il prezzo sia che si è che può essere che dass che che si 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 La data della dedicazione del nuovo complesso parrocchiale sarà sabato 22 febbraio alle ore 19.30 del prossimo anno. Quindi architetti in presa devono muoversi, o no? Che dite? Ok. Noi ci mettiamo in piedi e insieme preghiamo la preghiera del Giubileo. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, gloria a te per il dono di questo tempo giubilare. Nel decimo anniversario dell'istituzione della nostra comunità parrocchiale. Padre, ti rendiamo grazie perché ci doni un tempo favorevole alla riconciliazione con te e con i fratelli, per riprendere con nuovo slancio il cammino di fede, speranza e carità nell'oggi della Chiesa. Gesù, Maestro e Signore, ti benediciamo perché continui a vivere in noi e in mezzo a noi, attraverso la vita e la missione della nostra comunità, chiamata ad essere casa e scuola di comunione e di fraternità con tutti. Spirito Santo, diamo gloria a te perché nella vita buona e virtuosa del nostro padrono San Magno, Vescovo e Martire, ci aiuti a riconoscere il tuo Spirito di Santità. Il suo esempio ci incoraggi a rendere più operoso il nostro servizio a chi è povero, ammalato, stanco e offresso. Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, ottienici il dono della fedeltà verso Dio e i fratelli, sostienici con fortezza nell'ora della prova e orienta il nostro cammino verso la Patria del Cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il simbolo del nostro giubileo è un 10 con il 10 fatto in forma di mandorla, che è il nuovo complesso parrocchiale, la palma, il colore rosso, ci ricorda il martiglio di San Manio, il martiglio che come cristiani dobbiamo vivere ogni giorno, e il motto è l'obiettivo, è la forza che ci deve spingere ad andare avanti. Grazie ancora e prechi per noi. Il nostro pensiero ora si morge alla Vergine Madre. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo anno santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. La dolcezza del suo sguardo è la forza che ci deve spingere ad andare avanti. La dolcezza del suo sguardo è la forza che ci deve spingere ad andare avanti. La dolcezza del suo sguardo è la forza che ci deve spingere ad andare avanti. La dolcezza del suo sguardo è la forza che ci deve spingere ad andare avanti. La dolcezza del suo sguardo è la forza che ci deve spingere ad andare avanti. La dolcezza del suo sguardo è la forza che ci deve spingere ad andare avanti. La dolcezza del suo sguardo è la forza che ci deve spingere ad andare avanti. Tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Viatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Leonardo, per la Santa Madre Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi e con il suo Spirito. Intinatevi per la benedizione. Sia ben detto, in nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore e che ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Madre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Crediamo grazie a Dio.